Buongiorno, oggi nello studio di Sant'Alessandro.org è il nostro ospite Don Mattia Magoni. Buongiorno Don Mattia. Ciao Sabrina. Vi raccontiamo un po' un programma di iniziative molto interessanti che potremmo raggruppare sotto il nome di Summer Seminary. È una buona definizione questa. Sì, in effetti, come seminario, da un paio d'anni, stiamo cercando di rilanciare la pastorale vocazionale. Siamo un gruppo di preti che si occupa di questo e di farlo soprattutto cogliendo alcuni momenti, come quello dell'estate, che è particolarmente interessante perché i nostri ragazzi hanno tanto tempo libero, i nostri oratori sono impegnati con i CRE e diventa sempre più difficile muovere grandi volumi di ragazzi a costi anche accessibili dentro esperienze che possano essere significative. E quindi, dall'anno scorso, abbiamo dato vita a un'esperienza che ci è piaciuta e che quest'anno ripetiamo, che è l'esperienza del Seminary CRE, la possibilità di fare una gita in seminario di un giorno per gli oratori. E da qui nascono altre due esperienze. La prima sono le Seminary Night, la possibilità di una serata per gli adolescenti, e il Seminary Box, una sorta di servizio delivery che porta a casa propria, nei propri oratori, i giochi del Seminary CRE dell'anno scorso, quindi la proposta di animazione vocazionale che ha dato il via a tutto. C'è qualche tema particolare alla base delle attività di quest'anno? Ci sono dei nuovi giochi, immaginiamo, e che cosa vi siete inventati? Allora, l'idea di base che ci guida è che è utile e prezioso per i nostri ragazzi potersi misurare con la questione vocazionale. Cioè che nella vita c'è qualcosa di bello che negli anni che vanno, che ne so, dai 6 ai 20, se incontrano la tua vita e il tuo interesse, sono capaci di accendere una strada che può diventare l'occasione per farti dare il meglio con generosità e compassione per una vita intera. Possono accendere una scintilla che ha la possibilità di durare per molto e molto tempo. Questa è l'idea che sta alla base, raccontare l'esperienza cristiana della vita come vocazione. Quest'anno abbiamo pensato per il Seminary Cree di ripercorrere le orme del profeta Daniele che vive in un periodo molto particolare, quello del II secolo a.C. Siamo lì tra il II e il I, la datazione poi è sempre un po' complicata. L'epoca così chiamata dell'ellenismo, in cui i greci conquistano a livello di cultura anche Gerusalemme e quindi nel Tempio costruiscono un ginnasi, una palestra, costruiscono e qualcuno del popolo ebraico inizia a dire ma sai che questa mentalità non è così male. Alcuni dei ragazzi vengono deportati nella zona di Babilonia e educati come funzionari del re. Scoprono l'importanza di non omologarsi, di imparare a pensare con la propria testa, di tenere il cuore dentro le tradizioni dei padri perché lì, nella relazione col loro Dio, col Dio di Israele, trovano qualcosa che aiuta la loro vita a essere una vita brillante. A partire da qui, insieme a Daniele e ai suoi amici, ci piacerebbe vivere nuovi giochi, nuove esperienze per poter collezionare quelle caratteristiche che anche oggi aiutano a non omologarsi, a pensare con la propria testa, a poter scegliere il meglio senza lasciarsi influenzare e condizionare da ciò che non vale. L'anno scorso è andata molto bene, è stata un'esperienza ricca, molto apprezzata, si sarà innescato anche un bel passaparola, quindi quest'anno come se qualcuno vuole saperne di più, vuole informarsi, partecipare, cosa deve fare? Allora, l'anno scorso sì, abbiamo visto in un mese 7.600 ragazzi. Quest'anno abbiamo deciso, proprio perché l'esperienza è andata bene, di aumentare la capienza, ne ospiteremo 500 al giorno, vuol dire che potremo vedere circa 10.000 ragazzi col Seminary CRE e poi di ampliare le proposte, quindi di inserire nel Seminary CRE una mostra dedicata agli animatori adolescenti, la mostra Il mio inferno di Dante, curata dai disegni di Gabriele Dell'Otto, già famoso per aver disegnato Secret Invasion della Marvel e da Franco Nembrini, perché hanno saputo rendere questo passaggio di Dante e Virgilio all'inferno in modo molto esistenziale e provocante, con le grandi domande che non possono non coinvolgere anche il viaggio di ciascuno che è impigliato con la fatica di non rendere un inferno l'esito dei propri desideri e quindi durante il giorno del Seminary CRE gli animatori avranno la possibilità di interagire con questa mostra. Le Seminary Night vogliono offrire la possibilità di fare questa esperienza a chi non riesce a partecipare con il proprio CRE durante le giornate, quindi si rivolgono agli oratori perché con i loro adolescenti possano vivere questo momento e anche qui abbiamo quindi la possibilità di accogliere 150 ragazzi a sera per quattro mercoledì sera. E poi le Seminary Box portano in giro nella forma della consegna a domicilio i giochi già collaudati dell'anno scorso e servono a tenere un po' calda l'attenzione sui temi della vocazione a partire dalla storia del re Davide che deve affrontare il suo Golia, il suo mostro che rende un po' più difficile per i nostri ragazzi la crescita e blocca lì sul nascere il loro slancio verso il meglio. Quindi queste sono le tre proposte. Abbiamo aumentato la capienza, abbiamo aumentato le proposte e le informazioni si possono trovare sul sito del seminario, su quello della diocesi, su Eco di Bergamo, sull'Eco uscirà un articolo, sul santale, sul santalessandro.org si trova tutto quello che serve, penso che siamo abbastanza coperti. Benissimo, allora speriamo insomma che la partecipazione sia forte come l'anno scorso, anzi di più, visto che la capienza è aumentata, in bocca al lupo per queste attività estive. Grazie dal 17 giugno al 12 luglio per tutte queste tre esperienze, il Seminary Summer vi aspetta. Grazie e buona giornata. Grazie.